Sì, grazie Presidente. Per illustrare brevemente questo emendamento in cui, siccome avete deciso che l'impresa sociale, avete votato conto i nostri emendamenti per vietare la distribuzione degli utili per l'impresa sociale, chiediamo di dividere gli utili solamente per l'attività non istituzionale, ovvero l'attività accessoria, perché l'impresa sociale può fare attività commerciale e attività non commerciale. E quindi di escludere dalla divisione degli utili, per l'appunto, gli utili ottenuti dall'attività istituzionale, dall'attività connesse a quella istituzionale e dalle quote associative versate dai partecipanti, ovvero tutta la parte dell'impresa in cui si fa effettivamente attività sociale. Questo per conservare il principio di non trasformare in un business l'assistenza e l'attività sociale dell'ente. Grazie. Grazie onorevole Mantero.